Centrali e bombe sono nati insieme come gemelli siamese. Io vorrei ricordare che ad esempio la seconda bomba, non quella di Rossi ma quella di Nagasaki, era una bomba al plutonio. Il nocciolo di questa bomba era una pallina da tennis di plutonio, 6 chili e mezzo circa, più un'altra quindicina di chili spente dall'esplosivo periferico per avere questa massa critica che poi innescava ed era di una potenza di 10 volte circa rispetto alla bomba di Rossi ma. Se il mondo si sta mobilitando ad esempio contro l'Iran, al Menajat che vuole la centrale nucleare perché pensa ad una proliferazione in campo militare, sa bene quello che sta facendo. Io mi ricordo, l'ingegnere ormai ha i capelli grigi come i miei, quando Israele senza nessuna dichiarazione di guerra andò a bombardare a Tamuz il reatore di Osirak in Iraq, prima ancora della guerra della Nato perché sapeva bene che cosa avrebbero potuto fare gli iracheni e Saddam con questo reattore nucleare. La stessa India è partita dai reattori nucleari per fare poi dopo i testi atomici nei confronti della Cina che aveva già la sua bomba atomica. Ma c'è anche la coda del nucleare che è legata al militare. Abbiamo sentito parlare tutti di uranio impoverito e di sindrome dovuto all'uranio impoverito. L'uranio impoverito ce l'abbiamo alla fine come residuo dopo le reazioni che avvengono nelle centrali nucleari. Perciò la centrale nucleare non è una bomba. Non è una bomba però i collegamenti. Non vedo il collegamento militare, mi scusi, è per uso civile. Perlomeno in Italia. In Italia è per uso civile, non vedo il collegamento militare. In Italia non abbiamo ancora niente che ce lo possa dire. La Francia, la force de Frap, è stata voluta da De Gaulle, è stata legata strettamente al militare. Con Sirac avevamo le centrali nucleari e avevamo gli esperimenti a Mururoa agli antipodi della Francia. Negli Stati Uniti è stata così perché Eisenhower, quando proposto il nucleare civile, è partito dall'esperienza del nucleare militare. Perciò i legami ci sono. Le scorie sono pericolose, lo sappiamo bene. Non si sa ancora dove metterle. Noi abbiamo visto, ad esempio, quella trasmissione fatta su Rai 3 da presa diretta che ci fa vedere come sia in crisi il deposito in Germania. Dovranno cambiare deposito. Sappiamo in Italia della difficoltà di andare a sistemare le scorie. La rivolta della Basilicata contro il tentativo di seppellire negli strati salini, coperti anche da pacchi d'argilla a Scanzano Ioni con le scorie italiane. Sappiamo bene come è entrata in crisi saluggia con la piena della Dora. Abbiamo sfiorato, questo lo diceva Rubbia, una catastrofe, se non planetaria, sicuramente di tutto il nord Italia e dell'Adriatico. Le scorie sono pericolosissime. E' proprio per questo, sulla base del principio di precauzione, che un teologo, Bruno Bignami, della Diocesi di Cremona, appena pubblicato sulla rivista del clero, un articolo che ti dice denuclearizziamo le coscienze. Dice non nucleare. Proprio per la responsabilità che abbiamo di lasciare le generazioni future un problema irrisolto creato da noi. Ho già parlato troppo, scusate. Pavese, ma quanto è lecita questa paura? Non la paura del nucleare. Le spiego. Ad esempio, il leghista Giovanni Fava sostiene che è un'invenzione, che comunque è una strumentalizzazione della sinistra. L'idea è che si costruisca una centrale lungo il Po. Quindi, insomma, i viadanesi e gli abitanti di San Benedetto Po hanno ragione se temono questa cosa oppure è solamente davvero un'invenzione. Insomma, un'invenzione di sinistra. La legge 99-2009 non l'ha inventata la sinistra, l'ha fatto il governo Berlusconi che mi pare di capire che è di centrodestra. Le dichiarazioni del ministro Scaiola di due anni fa, sommate a quelle di Romani di pochi mesi fa, che è l'ultimo ministro dello sviluppo economico della nostra Repubblica, non sono invenzioni, sono fatti concreti, sono scelte che fanno parte anche del governo Berlusconi che sta puntando alla produzione nucleare nel sistema energetico nazionale. Quindi non è assolutamente vero che è aleatoria, che è un'invenzione, è un dato di fatto concreto e ci sono proprio dichiarazioni ben precise dello stesso primo ministro Berlusconi che punta a produrre un 15-20% a livello nazionale di energia nucleare. Quindi io non riesco a capire nemmeno da dove venga l'idea di dire che è un'invenzione, è strumentale, è aleatoria, non esiste. Sono fatti concreti, dati di fatto accertabili, dichiarazioni ufficiali del governo e dei ministri alla partita, quindi dobbiamo sicuramente rendersi conto che è una scelta strategica precisa alla quale bisogna dare delle risposte che le stiamo dando a più livelli, sia a livello locale, anche regionale, ma anche nazionale. È un no che faceva parte, per quanto mi riguarda, dell'amministrazione che ho retto a Vietana fino a ieri, cioè era un no di sostanze, come dico spesso, ma anche di metodo. Cioè il modo di come si parla di questa questione, ogni tanto se è fuori un ministro bisogna riprendere il discorso nucleare, non c'è la certezza nemmeno di decisioni e a che livello vengono prese e soprattutto questa benedetta legge che ho citato prima, la 99 del 2009, è drammatica, cioè non lascia spazio alle popolazioni, i comuni sono letteralmente fuori dal gioco decisionale, non è nemmeno prevista la possibilità di una consultazione popolare, di una comparticipazione degli enti locali, quindi esiste di fatto una volontà, dichiarate un metodo consolidato che si concretizza in quella legge che dicevo prima, quindi è concreto altro che allegatorio. Qual è l'umore tra gli imprenditori? Come Presidente di Confindustria immagino che avrete, conoscerà l'opinione dei suoi associati, vi confronterete immagino anche su questo tema. Sì, sicuramente, il processo che ha portato il governo a orientarsi verso il nucleare non è un processo che parta né dal militare né da precostituiti concetti a favore di questa forma di energia. Chiaramente noi partiamo da una logica oggettiva, né io ideologicamente sono a favore o contro il nucleare. Quello che noi industriali vediamo e ci rendiamo conto di questo fatto tutti i giorni quando paghiamo la bolletta elettrica e paghiamo la corrente sensibilmente di più di tutti i nostri partner anche europei e questo è in gran parte dovuto al fatto che dobbiamo importare il combustibile, dobbiamo importare l'energia e questo non è un fatto che possa garantire competitività al nostro sistema. Noi abbiamo perso ricchezza, abbiamo perso competitività, abbiamo perso posti di lavoro perché tra questi motivi ce ne sono anche altri, c'è anche quello del costo dell'energia e in più il fatto di importare il combustibile fossile e bruciarlo qui implica anche una produzione di CO2 che con altri sistemi non verrebbe prodotta, portando via in base al protocollo di Chiotto delle quote di emissione di CO2 che sarebbero vitali per altri processi produttivi. Quindi dopo che ci sia anche una componente dovuta al fatto che costruire le centrali nucleari è un'attività che comporterebbe lavoro anche per aziende nazionali nel campo dell'impiantistica, nel campo del genio civile, abbiamo anche un esempio mantovano molto eccellente che è la Bellelli Energy che sta producendo utili lavorando molto bene con altissime tecnologie, è una componente importante. In questa logica qua quindi è un luogo comune, ormai consolidato, però lasciamocelo ripetere, avere l'arco alpino costellato di centrali nucleari al confine che in caso di incidente, se fosse così possibile, avrebbe indubbie conseguenze anche qui da noi e poi non accettare qua da noi delle centrali che avrebbero più o meno gli stessi effetti, significa avere tutti i malefici della possibilità di un evento negativo e non i benefici di pagare meno la corrente, di avere più autosufficienza energetica e minore produzione di CO2. Uno studio della CGL però ha appunto reso noto tra l'altro la scorsa settimana durante questa riunione, sostiene che in realtà ci sia più aumento di posti di lavoro attraverso le energie rinnovabili che non attraverso la costruzione di una centrale nucleare. Ma questo è fuori di dubbio, però bisogna guardare la realtà da tutte le angolazioni, è chiaro che si dà più lavoro con le energie rinnovabili, però il costo per megawattora prodotto è enormemente superiore, quindi non si può mettere a confronto queste due grandezze, perché noi dobbiamo guardare in un'ottica di medio termine. Nel breve si dà lavoro a più persone, però senza gli incentivi pubblici l'installazione di energia fotovoltaica o di biomasse o eolica diventa poco conveniente. Noi purtroppo siamo una nazione che come dicevo prima ha perso ricchezza, quindi i denari che ha a disposizione per poter investire li deve deputare con più saggezza e con un'ottica più lungimirante per far sì che i costi complessivi per il sistema paese siano più bassi nel lungo termine. Va da sé però che io non sono in grado, come non penso che lo siano nemmeno gli autorevoli interlocutori di questa serata, di fare un'analisi dettagliata e specifica su quelli che sono i benefici e i costi delle varie soluzioni. Adesso siamo bombardati di tante informazioni e di tanti dati che però dovrebbero essere valutati sull'oggettività dell'esame della situazione con pro e contro sia dal punto di vista ambientale del consumo di acqua, dell'utilizzo di acqua, di utilizzo di mano d'opera e di costo effettivo di impianto e del megawattora poi finale andrebbe fatto in modo molto accurato e serio e quindi la scelta se fare il nucleare o non farlo dovrebbe essere fatta con senso di responsabilità e con senso della rappresentanza. Non la vedo una cosa da proiettare sul piano della scelta del singolo cittadino così come assolutamente dobbiamo cercare di una volta che si dovesse scegliere consapevolmente e responsabilmente di fare queste centrali la scelta del sito dovrebbe essere fatta o dei siti con un'ottica di ricerche oggettive e di effettivo validità del sito in funzione delle esigenze che ci sono anche in fase di progettazione si può tenere conto di situazioni idrogeologiche alluvionali e quant'altro predisponendo le barriere, gli atti di ingegno civile che necessitano anche l'urto dell'aereo perché dopo l'11 di settembre ci sono queste cose qua. L'impressione è che il giudizio sull'opportunità o meno delle centrali nucleari venga fatto con un'ottica ex ante ideologica e non fenomenologica. Io non mi esprimo né a favore né contro, dico solamente che è un'opzione da esaminare profondamente senza emozionalità e coinvolgimento anche popolistico e ideologico ma con dei dati davanti da esaminare perché altrimenti noi preserviamo l'ambiente anche potenzialmente però ci incamminiamo verso un declino economico che in questo momento da industriale mi preoccupa parecchio. Ecco di costi, di opportunità e anche di scelta del sito parleremo dopo la pubblicità.